E' stata una partita bella, una bella giocata, una partita con un pubblico meraviglioso, è stato bello vincerla perché è molto importante per me. E' stata una bellissima esperienza, ci sono già stato due anni fa e per rifarla è molto bello perché è un paese che adoro, è una partita che mi piace molto e che stimo parecchio. Mi piace molto girare le città che visito per la pallavolo, mi piace vedere posti nuovi, sapere delle città, mi piace leggere, mi piace guardare i film, un po' di tutto quello che possiamo fare noi pallavolisti.